E la domanda di Alessandro dice Ho messo una foto sulla radio, date un'occhiata fratelli Sì, ho messo stamattina una foto sul soggetto E poi continuiamo Sì è vero che Dio vede il cuore, ma è vero anche che l'uomo e la donna possono tentare e far cadere nel peccato a motivo della concupiscenza E tu cosa dici? No, è un fratello ragione che Dio vede il cuore e che certamente l'uomo e la donna possono tentare e far cadere nel peccato a motivo della concupiscenza Quindi è a motivo della concupiscenza, non è a motivo del corpo Cioè se una donna o un uomo, come fanno questi complessi rock musicali moderni E che fanno tutti questi atteggiamenti anche da lesbiche, anche omosessuali Devono andare sul palcoscenico a farle Cioè provocano un modo deliberativo E' chiaro, questo è sbagliato Quando una donna deliberatamente cerca di tentare Però c'è la donna che si mette in costume da bagno E che magari è una cristiana e non sta cercando di tentare nessuno Magari lì con il suo marito sta magari leggendo la Bibbia Capisce come facevo io nella spiaggia Cioè dicevamo una parola, ascoltavamo una parola, parlavamo di Gesù Io non stavo mica lì c'era di tentare la donna che passavano Tanto meno mia moglie che tra l'altro C'è la moglie che è la donna più timida che c'è Timidissima Quindi mia moglie non tenta nessuno di sicuro Grazie a Dio Quindi diciamo Dipende come uno guarda Dipende Per esempio vediamo i musulmani che Appunto perché per non tentare gli uomini Hanno imbaccoccato le donne delle casse da morte ambulante Cioè Solo gli occhi puoi vedere E certe religioni coprono anche gli occhi Con un velo nero Eppure non risolve niente Ci sono ancora stupri Violentano Fanno adulterio Quindi adesso nelle zone dell'Iraq dove Isis e questi radicali musulmani hanno preso potere Adesso stanno castrando le donne Cioè Che si chiama circoncisione femminile Gli castrano la parte della donna Credo il clitoride Credo così che non sente più piacere quando fa l'amore In maniera che non sia tentata di tradire il marito Quindi questo è peggio della cintura di castità del medioevo Addirittura la mutilano Immagino che queste povere donne si devono sentire C'è una cosa che è la creazione di Dio Dio ha creato i piacieri del sesso Affinché Venga favorito la procreazione Affinché Ci sia Diciamo Una gioia nel fare Nel vero rapporto sessuale con la moglie o col marito In maniera che Avere i figli sia una gioia E non solamente Che so Lavare il pavimento Pulire un bagno O scavare fosse nel giardino O spaccare la regna Dio ha creato Quando mangi il cibo Provi piacere a mangiare Quindi lo cucinano in certo modo Sì Quando sei stanco vai a letto Provi piacere a riposarci Ti siedi sotto un albero Qui a volte ci mettiamo Dio ci ha dato tantissimi alberi Casa nostra qui Glorie al Signore E ci mettiamo sotto un albero La legge della Bibbia È un piacere Tutto quello che Dio ha creato È un piacere Quando bevi un bicchiere d'acqua fresca E sei assetato Quando mangi del cibo Quando ti riposi Quando mangi un dolce Quando bevi un bicchiere di vino Quando mangi Tutto è un piacere Capisci Mangi un gelato E ora questi musulmani Che devono castrare le donne Perché non devono sentire piacere Così che loro Dormono tranquilli Che la moglie non li sta tradendo Però loro tradiscono la moglie Molti di loro Quindi è una cosa mostruosa Allora Allora al mare come facciamo? Al mare Secondo la tua fede Insomma Cerca di comportarti In maniera cristiana Matteo 9,29 Secondo la tua fede Ti sia fatta Se la tua fede ti dice Di vestiti come una musulmana E vestiti come una musulmana La mia fede non me lo dice Cioè E ho messo anche una foto qui Sulla radio Ho messo foto di musulmani Che vedi Donne musulmani Che vanno al mare Vestite di nero Capisci? Le vedi qua? Sì Sulla prima pagina Le vedete? Sì Cioè Ridicolo vestire Poveraccia così Mi fa a nuotare Con una cosa così Però tu Tenti Che tento gli uomini Se una donna Può tentare gli uomini Vestita Peggio dei musulmani Perché è lo spirito Che tenta Non è vestiario Infatti i musulmani E una donna Vestita in bikini Invece può essere Una donna di Dio Che non gli interessa Di tentare gli uomini Felicemente è sposata C'è un fidanzato O magari non ha fidanzato E però è una vergine Figlia di Dio Che ha la sua chiesa C'è tentato Come gli uomini Tentato come tutti Però non sta cercando Di accalappiare nessuno Non è la prostituta E una donna Che si è messa In costumi da bagno Per motivi di comodità O ci sono costumi da bagno Che quasi non si vedono Ok Sì è vero Capisci? Ci sono donne Che vanno a topless Per mostrare Che hanno il seno Più bello della zona E vabbè È chiaro che Nel giudizio dell'Eden Eva era topless Era nuda E allora? E perché Però il suo spirito Era divino Non stava tentando nessuno Ok Però in questo mondo È meglio che non vai in giro Topless Per vari motivi Tra l'altro È facilmente violentata Tra l'altro Quindi devi camminare In una maniera Che non devi tentare Deve camminare Nello spirito di Dio Dammi una scrittura Romani 14 Guarda Ok Sì 13 Smettiamo dunque Di giudicare Gli uni Gli altri Decidetevi piuttosto A non porre in ciampo Sulla via del fratello Cioè non tentarlo Né a essere per lui Un'occasione di caduta Quindi se sai Che un fratello è debole Che magari c'è un problema Con la pornografia O con la masturbazione Eccetera Così Che non riesce a controllarsi Va bene Allora Diciamo Non ti mettere seduto Con le gambe E gli fa vedere Le tue gambe Cioè Siediti normale In maniera composta Questa è logica Verso 14 Io so E sono persuaso Nel Signore Gesù Che nulla è impuro In se stesso Però se uno pensa Che una cosa è impura Per lui è impura Quindi la cosa Che Una cosa Il sesso È una cosa neutrale Cioè può essere usata Dal diavolo O da Dio Dio lo può usare Per procreare Un bellissimo figlio Per il Signore E per avere una vita Coniugale Felice Con lo sposo O il diavolo Lo può usare Per stuprare Violentare Capisci? Quindi se uno pensa Verso 14 Che una cosa Per lui è impura Allora è impura Per lui Ma non perché Non perché è impura Legge verso Verso 10 Credo Non aspetta No 14 14 Sono persuaso Nel Signore Gesù Che nulla è impuro Quindi non c'è niente Di impuro Niente Cioè Così c'è di impuro Andare al mare Vestiti Costume da bagno Ma guarda Eva era nuda Nel giardino Neanche il costume da bagno Aveva Si pare detto Che era divina Sì è certo È logico Però Diciamo Non è che deve essere divino Per mettere il costume da bagno Semplicemente Non essere del diavolo Non andare in giro A tentare Perché anche se sei vestita Puoi tentare Con le parole Con uno sguardo Tu combina la strada Notato che tu non guardi Gli uomini negli occhi Chiaro che no Perché se guardi Un uomo negli occhi Allora dice Ecco il messaggio Comincia a seguirti Capisci Quindi una musulmana Vestita di nero Però con gli occhi Può dare uno sguardo In un certo modo Capisci Una ragazza In bikini Sulla strada Sulla spiagge Non ti guarda In un certo modo Si comporta normale E tutto È risolto un problema Comunque sia Secondo Secondo la tua fede Dipende dai frutti C'è una ragazza Che va in spiagge Si veste come una musulmana Però continua a cadere Nell'adulterio Per esempio Quella lì Anche vestita da musulmana C'è qualcosa che non va Una ragazza Che va in spiagge Vestita con i bikini Però i frutti Mostrano Che non ha avuto problemi Non ha problemi Sta evitando problemi C'è una reputazione Che non commette Sbagli sessuali Direi non fa niente di male Amen Ci siamo? Sì Amen È chiaro Ok Speriamo No ha ragione Guarda i musulmani Che vestono le donne In questa maniera Ma non è che si controllano Molto bene Anzi Anzi Secondo me è peggio Sempre violentano le donne È peggio Perché sono lì A immaginare Chissà dentro questa cassa da morto nera Questo imbaccucamento Chissà come è Guarda Andiamo avanti Ok Prossima domanda Da parte